Nome e cognome. Matteo Colombo. Marcello Pacione. Ruolo e agenzia. Commerciale in SGF. Sono socio fondatore e responsabile commerciale della società Comind SRN che è in Abruzzo e precisamente nella città di Pescara. Da quanti anni sei nel campo dell'automazione industriale? Nel mondo dell'automazione quasi una ventina. Sono nel campo da 23 anni e lavoro come agente da 23 anni. Che area geografica segui? Milano, Lodi, Pavia e Piacenza. Seguo la fascia adriatica quindi Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicano. Qual è la caratteristica del tuo territorio dal punto di vista del mercato? C'è tutta la concorrenza possibile e questo è molto stimolante. Mercato predominante è quello dell'automotive. Da quanti anni collabori con Rare? Circa una decina, 10-12 più o meno. 23 anni. Ti ricordi qual è stato il primo ordine fatto con Rare? Sì, è stato fatto ovviamente alla concorrenza, prendendo cliente alla concorrenza con delle barriere. Probabilmente, se la memoria non mi inganna, è stato una barriera o un gruppo di barriere in categoria 4 per proteggere delle presse in un'azienda metalmeccanica. Qual è la cosa che apprezzi di più di Rare? L'elasticità, la serietà e il fattore umano. È che l'azienda è un'azienda totalmente italiana e quindi rappresenta il Made in Italy e c'è un gran bel rapporto diretto con le persone a tutti i livelli. C'è una grossa rete vendita che dura da anni e quindi noto una grande fidelizzazione dei propri collaboratori. Discrivi Rare in tre parole? Disponibile, elastica e seria. Qualità, innovazione e Made in Italy. Come percepiscono secondo te i clienti il marchio Rare? Un'azienda seria e professionale. È un'azienda di riferimento del settore della sicurezza, dell'automazione della sicurezza. Quanto ritieni importante il supporto tecnico di Rare per lo svolgimento del tuo lavoro? Dipende dalla tipologia di prodotto ma molto importante. Ha una buona incidenza. Possiamo parlare di un 75-80%. Abbiamo introdotto il nuovo sensore AirSafe. Con quale aggettivo e esclamazione descriveresti questa novità? Finalmente c'è! Grandioso! Qual è la cosa per cui ti senti più fiero della tua agenzia? Sicuramente la squadra che si ha. Sicuramente che è un prodotto Made in Italy di grandissima qualità e che è cresciuta sempre nel tempo e continua a crescere. Le tre cose che ami del tuo lavoro? La libertà, gli obiettivi da raggiungere e il venerdì sera. Il contatto con le persone e l'innovazione dei prodotti e l'amore per l'automazione. Raccontaci un aneddoto interessante o divertente della tua carriera. Quelli divertenti non si possono raccontare. Ecco qui ce ne sarebbero tantissime divertenti ma sono molto molto folkloristici e quindi evitiamo di raccontarli. Qual è la tua Rare Beer preferita? La Sil 4. La Sil 2. E cosa fai nel tuo tempo libero? Mi dedico sicuramente alla famiglia e alle varie passioni. Vado in bicicletta, corro, nuoto e cerco di tenermi in forma di me. Dove andrai in vacanza quest'estate? Isola d'Elba. Sono in programma di vacanza Sicilia e poi Polvo. Manda un saluto ai tuoi clienti. Ci vediamo! Ciao cari, a presto! Hai un messaggio per i tuoi colleghi? Vai ragazzi che ce la facciamo! Correte, lavorate e fatturate! Grazie! 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 Grazie!